però più complicazioni. C'è una grossa famiglia di esercizi che alla fine sono imparentati con questi, cioè ho due file con dei dati che sono una parte un po' dall'altra, li devo incrociare tra di loro sulla base di qualche criterio, che può essere un codice o in questo caso può essere la fila migliore oppure cose del genere. Non sono tutti, questa è una famiglia di esercizi. Le altre famiglie sono quelle che, tipo quella di ieri del testo, che ci fanno lavorare sulle stringhe, sul testo, cose di questo genere. L'altra grossa famiglia sono quelle che ci fanno lavorare sulle tabelle, sulle matrici, tipo quello della tempesta, quello del testo che avevamo fatto sul campo minato, cose di questo genere. Le macro famiglie alla fine sono queste, sono tipo database oppure tipo gestione dei testi e stringhe, oppure tipo matrici. Più o meno girano intorno a queste cose qua. Poi ovviamente ogni esercizio ha le sue peculiarità, ha le sue difficoltà specifiche. Cercate di non perdervi, cercate di... Il tempo c'è, no? Se uno non sbaglia il tempo, anzi, ne avanza. Quindi prendetevi il tempo per non sbagliare. Piuttosto che buttarvi e implementarvi in un certo modo, non avviate paura a fermarvi, a ragionarvi, farvi uno schemino a mano, no? Di come vorreste rappresentare i dati, di come vi servono. Sono minuti che vi ritrovate sicuramente poi dopo nella fase di implementazione. Non abbiate fretta di iniziare a scrivere codice finché non avete capito bene quali sono gli algoritmi che implementate. Io oggi ho provato a scrivere, esercizi praticamente senza usare il debug. L'altra volta invece usavo il debug, ogni volta che aggiungevo una funzione. Sto cercando di esplorare stili diversi di lavorare. Qui ho tendenzialmente, in questo ultimo esercizio, ho scritto tutto quasi senza funzioni. C'erano solo due funzioncini stupidi, una per leggere il file e l'altra. Mentre la volta scorsa invece facevo tante funzioni piccole. Alla fine è risultato lo stesso. Dipende un po' dallo stile, da come vi trovate. Io ho cercato in questi esercizi di usare stili un pochino diversi anche per stimolarvi un po' il confronto. Ma è meglio fare così, meglio fare così. Come mi trovo meglio io a fare. Ok? L'ultima cosa che mi sento di dire è che la soluzione è che cercate di fare la vostra. Ok? Non cercate mai di imitare una soluzione che avete visto risolta da qualcun altro oppure anche risolta da voi stessi in un altro esercizio. Questa è la trappola più pericolosa di pensare che una cosa sia uguale a un'altra o molto simile a un'altra e quindi cerco di ricordarmi com'era quella cosa là. Di solito fallisce. Perché ogni problema è talmente particolare basta cambiare una virgola, un'ipotesi, un'assunzione. Qua la lettura di questo file era facilissima perché diceva sono in ordine crescenti di prezzo e guarda Carlo il prezzo era proprio il criterio di scelta. Quello là dei voti che abbiamo fatto prima è stato pesante il fatto che guarda che quello lì è in ordine a caso e in più i dati possono essere ripetuti. Peggio cosa? Non avevi da inventarti. E allora abbiamo dovuto faticare parecchio per avere poi il dato pulito su cui poi l'operazione era banale, una somma pesata. Quindi aggiungere o non aggiungere un'informazione sull'ordine, sull'duplicazione dei dati, eccetera, può cambiare radicalmente il punto dell'esercizio in cui c'è maggiore difficoltà. Non diamo per scontato nulla. Ok? E l'ultima cosa, ci sono due principi che si chiamano DRY e KISS che vi consiglio di tenere sempre in mente quando programmate. DRY sta per DON'T REPEAT YOURSELF. YOURSELF. Cioè, se ti accorgi che stai scrivendo lo stesso codice una, due, tre volte, stai usando una costante numerica una, due, tre volte, definisci una costante, definisci una funzione. Salva un valore e poi riusa quel valore lì. Non riscrivere più volte lo stesso codice. Non fare copia e incolla. Se questa cosa qui non fosse stata l'ultima istruzione per poi finire l'esercizio non avrei fatto copia e incolla. Ve lo sicuro. Avrei detto ma guarda, la funzione fila mi può restituire sia la fila che l'incasso. L'ha già calcolato. Anziché buttarlo nel cesso eh, anziché dimenticarlo lo restituisco. E l'altro lo usa. E se non lo usa sta senza ma farò stesso ma io l'ho già calcolato e non lo ricalcolo. Quindi questo è utile sia per evitare il duplicato perché poi quando fai copia e incolla non è mai copia e incolla di qualcosa che era perfetto. È copia e incolla di qualcosa che stai creando e poi magari ti accorgi che era sbagliato o che andava aggiunto un pezzo. E allora è copia e incolla e ricorda dove è incollato perché se ne modifichi uno devi modificarli tutti. E lì si fallisce. E in più ci allena avere questo principio in mente ci allena anche a cercare di riconoscere le similarità. Ma questo pezzo qua l'ho già fatto. questo si può mettere a fattore comune si può fare una volta sola. Che è stupido perché ad esempio quando io ho preso cliente uguale campo di zero l'ho messo sopra la if perché così non lo devo estrarre nel campo if e nel campo else perché in realtà mi serve anche nell'else. Quando ho scritto questo non avevo ancora chiaro se nell'else mi serviva o no. però l'ho messo lì già che ce l'ho lo uso. La parte comune la ragiono per prima poi vado a ragionare le parti diverse distinte. E l'altro principio KISS che è quello più difficile più importante è quello in cui serve anche l'esperienza e so che in fase di esame non è tanto facile la calma no? Non lo stress non stressatevi se potete è KISS KISS e poi non è riferito a voi ma la seconda è super stupid non complicatevi la vita non fate cose zigugolate complicate eccetera perché poi ci si perde piuttosto una funzione in più un blocco di codice in più una variabile in più anziché fare un'istruzione complicatissima e poi dopo ti perdi non ti ricordi più dove fossero le core aggiungi un commento se ti serve se serve a te noi non vi chiediamo di commentare il codice non c'è tempo in un'ora e media di fare anche il commento fatto bene però in due o tre punti chiave dove ci sono le cose che vi sono costate più sudore mentale ve lo scrivete vi ricordate ah qui i dati sono messi così campo 0 1 2 3 metti il dato di esempio come commento così tutte le volte che non ti ricordi più che cosa c'era nella colonna 3 ce l'hai lì sotto gli occhi non devi andare a cercarlo chissà dove e questo mi rendo conto che per molti è la cosa ma per tutti è la cosa più difficile perché tu cominci a fare un pezzo poi mentre fai un pezzo ti accorgi che te ne manca un altro ne aggiungi un altro eccetera la cosa comincia a grovigliarsi in un modo indistricabile e se tu per caso provi a chiudere gli occhi e riaprire per due secondi riaprirli guardi sta cosa e ti prende un coccolone perché dici cosa ho scritto quindi veramente cercate di fare passi piccoli io per tutto il corso ho sempre cercato di dire si ho 4 o 5 istruzioni e poi le proviamo non aspettiamo di scrivere tutto io quando arrivo c'è qualcuno che alla fine dell'ora mi chiama e mi dice ma come si fa a fare il run all'esame perdo un anno di vita già non ho più tanti quindi fatelo per gradi piccoli passi e non ha una sigla cominciate dalle parti più succose dimenticate la gestione degli errori che sarebbe sempre giusto fare però come avete visto negli esercizi che abbiamo fatto qua negli esami c'era quasi sempre scritto si assume che il file esiste e sia corretto cerchiamo di dire perché altrimenti sarebbe un compito di difficoltà doppia fare l'esercizio e gestire tutti gli errori possibili e immaginabili allora magari vi trovate qualche esercizio in cui la difficoltà è proprio la gestione degli errori ma allora a questo punto poi di fatto l'esercizio è quello ok allora in un contesto reale un programma deve essere robusto deve gestire gli errori le anomalie se il dato manca la riga non c'è eccetera eccetera questo non è un contesto reale è una prova d'esame quindi per forza è limitata come contesto limitata come tempo è limitata come tipo di diciamo così operazioni che vi chiediamo quindi sia la gestione degli errori sia la gestione della quella che io chiamo estetica quindi stampare la stampa esattamente con le colonne giuste è l'ultima cosa che dovete fare l'ultima in ordine di tempo non in ordine di importanza l'importante invece è avere la gestione dei dati corretta quello sì l'algoritmo sì questa è la parte che pesa di più sicuramente nella valutazione dei compiti ok approfitto ancora cinque minuti poi finiamo prima per la prima volta durante l'anno vi ricordo vabbè il fatto che le restanti lezioni oggi pomeriggio e domani sono online quindi non sono qui e non sono in aula 3D ok ma a parte questo che pensavo di avere l'ho detto un certo numero di volte come funziona l'esame ok in termini di sequenze di operazioni burocratiche perché poi fare l'esame lo sapete fare prima chiaramente prenotarsi e prenotarsi significa fare il questionario anche il CPD altrimenti non potete prenotarvi ma questo ormai la maggior parte l'ha già fatto poi c'è lo svolgimento dell'esame e quindi diciamo che il giorno prima vi daremo orario e aula ok prima devono concludersi le prenotazioni che si chiudono solo 4-5 giorni prima dell'esame poi dobbiamo fare tutti i conti dividere nelle aule i laboratori e fare i turni quindi fino a quel momento voi tenetevi la giornata libera ok il giorno prima vi diamo orario e aula vi presentate 15 minuti prima di fronte all'aula aula che sarà un live no? un laboratorio con il tesserino di riconoscimento o altro documento è meglio il tesserino se non altro perché è più leggibile se non altro perché vi identifica anche come studente uno che passa di lì le carte di identità di oggi sono illegibili a meno che uno non ci abbia e quindi quando inizierà di solito c'è il turno prima che finisce eccetera eccetera ci sarà un appello vi chiamiamo noi uno ad uno in ordine alfabetica quindi voi aspettate fuori quando è l'ora giusta qualcuno di noi esce vi chiama vi chiediamo di entrare io di solito controllo il tesserino man mano che entrate quindi anziché farvi entrare tutti in massa e poi controllare i documenti poi diventa difficile passare tra i banchi a volte vi chiamiamo noi fate vedere il documento controllo il nome spunto dall'elenco i presenti e gli assenti e poi voi vi sedete ok questo io comincio 15 minuti prima in modo che allo scoccare se tutto va bene non è detto che tutto vada bene ma se tutto va bene allo scoccare dell'ora dell'esame siete già seduti pronti con il computer acceso e il portale della diatica aperto allora a questo punto all'ora stabilita si attiva il quiz quindi vi comparirà il banner che dice c'è un esame in corso potete entrare e poi da lì in avanti è uguale alla simulazione d'esame quindi inizia il quiz da quel momento dall'inizio del quiz ci sono 90 minuti oppure più 30% in più per coloro che hanno diciamo così la certificazione e l'autorizzazione ad avere questo avviene in automatico non dobbiamo fare nulla di particolare quindi anche lì non riuscite a accendere il computer siete in ritardo eccetera aspettate a premere avvia perché il tempo parte da lì quindi se dovete recitare una preghiera zen prima di iniziare recitatela e poi iniziate il compito dopodiché la consegna allora potete spostarvi tra teoria e programmazione a piacere vostro cioè fate prima la teoria fate la prima programmazione è uguale tutto ciò che scrivete è salvato in automatico e viene consegnato in automatico allo scadere del tempo quindi se l'ultimo momento magari state scrivendo una frase rimane una frase bloccata a metà ma state tranquilli che ciò che avete fatto fino a quel momento rimane tutto salvato ok anche nel caso di problemi dovesse capitare un crash del computer del browser eccetera voi rientrate e vi ritrovate lo stesso quiz con le domande già scritte col programma fatto fino a quanto l'avete ottenuto quindi non non c'è rischio di perdere dati l'unica cosa è scrivete sempre dentro il main.pile già fornito dentro crownlabs quindi non create se volete creare altri file per scopi vostri fatelo per fare delle prove va benissimo però il programma è ufficiale quello che consegnate lo dovete scrivere dentro il main.pile di quel progetto lì che viene consegnato in automatico ok dopodiché allo scadere del tempo la consegna viene in automatico man mano che scade il tempo prendete uscite perché tanto altro non potete fare dopodiché il compito consegnato il programma consegnato lo trovate tra gli elaborati ok quindi potete andare a casa scaricare dagli elaborati uno zip che contiene esattamente il programma che avete è lo stesso zip che noi poi dobbiamo correggere ok quindi avete la copia di ciò che avete consegnato e invece le domande di teoria che avete scritto vi manderò per le domande di teoria scriviamo che è in italiano vi manderò un pdf riepilogativo se funziona l'anno scorso funzionava questa cosa adesso hanno cambiato spero che lo ripristinino questo vi arriverà poi ciascuno un pdf con esattamente la traccia di ciò che avete fatto quindi potete rileggervi le domande domande no le risposte che avete dato e autovalutarvi anche questo ve lo dando insieme a una soluzione quindi la soluzione sarebbe questa voi avete scritto questo fate voi dopodiché a un certo punto dopo n giorni pubblichiamo i voti di ciascun esercizio quindi sono quattro voti totale due punti per il primo esercizio due punti per la seconda domanda due punti per la terza domanda e 26 punti per il programma se non sbaglio e il totale e quindi a questo punto voi avete il voto di solito ci sono qualche giorno per reagire non ho capito perché di solito ecco quando pubblichiamo i voti fatemi scrivere con una motivazione sintetica cioè proprio solo una frase nelle domande di teoria vabbè sono talmente banali che è giusto o sbagliata sul programma cerchiamo di farvi due righe in cui spieghiamo che cosa è sbagliato essenzialmente se sulla base di quello che avete fatto che ce l'avete la soluzione che vi abbiamo dato il commento che vi abbiamo dato capite i vostri errori va bene così se ci sono dei problemi non capite eccetera c'è qualche giorno in cui possiamo comunicare vi fate presente qui non ho capito questo non lo può spiegare eccetera per reagire commentare chiedere chiarimenti dopodiché i voti vengono registrati in gergo consolidati cioè alla fine viene scritto il verbale d'esame e quel voto viene salvato se ovviamente è sufficiente da quel momento avete 24 ore avete 48 ore per eventualmente rifiutare ok quindi se volete rifiutare un voto non dovete dirmi niente ah no lo voglio rifiutare eccetera no voi aspettate che sia consolidato e a quel punto sull'app e sul sito del poli comparirà un bottone che vale per 48 ore in cui potete decidere questo voto qua non lo voglio e allora è come se fossero stati bocciati in certo senso ritirati potete ritirarvi se volete anche in qualunque momento cioè anche durante l'esame uno dice no ma ho mal di pancia me ne vado non c'è problema non vi obbighiamo non vi incateniamo lì ecco oppure una volta che c'è la valutazione dopo che avete capito il vostro errore dopo che avete visto il voto potete se non fate nulla il voto viene registrato quindi praticamente se avete fatto bene il compito da questo momento in avanti non ci pensate più perché poi io pubblicherò il voto sarà un bel voto e poi non mi dite niente va bene lo registrate io lo registro voi non risiutate e vi arriva il libretto la cosa quando fila correttamente altrimenti ci abbiamo questi tempi tutta questa procedura qua si deve chiudere prima del prossimo appello quindi saranno un pochino i giorni contati perché soprattutto il primo appello il numero di consegne è elevato noi cercheremo siamo in tre cercheremo di darci un po' il ritmo però dipende anche da quanto fantasiode sono le vostre consegne a volte ci richiedono certi sforzi di comprensione non banali va bene questo direi che come raccomandazioni finali e come procedure finali per il resto ci vediamo ancora online nelle lezioni di oggi per qualunque esigenza c'è sempre il gruppo telegrammattivo tranne durante l'esame chiaramente e potete sempre chiedere e cercare di discutere grazie di tutto e buona giornata grazie grazie grazie